Salve bambini, oggi come speciale di Natale sul canale di Epic Boss, io, Strunzo Bastrunzo, vi racconterò e narrerò le mitiche avventure di due grandi amici che superarono fossati, mostri, zombie, soltanto per arrivare alla loro meta. Godetevi questo speciale. Buona visione! Ma cosa? Dove mi trovo? Cosa? Sembra che mi sia caduto in testa? Sembra che mi abbiano sbarrato dentro. Ma dove cavolo mi trovo? Non ricordo più niente. Sembra esserci un passaggio. Dove? In che posto sono? Non ricordavo la mia città fosse così. In realtà, non ricordo proprio nulla. Prima che mi svegliassi. Deve essere amnesia. Dove? Dove? Dove sono le persone? Non vedo nessuno. Eppure questa, se non ricordo male, dovrebbe essere New York. No, una ventiquattro ore. Sembra che non ci sia più nessuno qua. Lì, lì sembra esserci qualcosa. Se solo riuscissi a raggiungerlo. Cos'è questa sbobba? No! Sembra essere corrosivo. Povero disgraziato. Cosa? Sembrano esserci dei rumori qui dentro. Ho visto uno stago, ma non riesco a scorgerla. Ma è tutto sbarrato. Devo andare. Devo trovare un'altra via. Oh mio Dio. E le scale? Ho tutto il corpo intorpidito. Niente qui si può passare. Oh mio Dio, ma che razza di persone vivrebbe qua dentro. Ma cosa? Che razza di gente abiterebbe qua dentro? No, sembra che qui io debba saltare. Ahi. Danger, containment, aria. Si assaggio entrare. Non credo che adesso abbia tanta importanza. Ma cosa? Salve. Ma chi sei? Da dove sei entrato? Calma con quell'arma. Ma sono entrato da sopra. C'erano delle scale. Ma... Ma è impossibile. Credevo di essere l'ultimo. L'ultimo di cosa? Di noi. Della nostra specie. Degli umani. Cosa? Ok, sono calmo adesso. Inizia a spiegare. Beh, è dura da spiegare. Neanche io so precisamente com'è andata. Ero stato scelto per una missione spaziale durata venti anni. Al mio ritorno non trovai più nessuno ed ero solo. Dato che sono partito per lo spazio non abbi più notizia da nessuno. Tutto qui. Spazio? Ma noi non siamo mai andati nello spazio. Come non si hanno mai andato nello spazio. Ma tu da che epoca vieni? Quando sei nato? Io sono nato, non ricordo, credo di soffrire di un'amnesia, sai? Un mattone mi ha preso in testa da quello che ho capito. Cazzarola, oh! Credo di essere un vivo, cioè, nato tra il 1800 e il 900. Beh, spero che in queste giornate ti farò riaffurare i tuoi ricordi. Comunque, siamo nel 2012. Non sono ancora sicuro di fidarmi di te. Ma dato che siamo gli unici due esseri viventi sul pianeta, direi che non ho altra scelta. Piacere. Puoi chiamarmi dato che è stato un nome che ho sempre apprezzato, Mattia. Il mio vecchio nome, sai com'è? Non me lo ricordo. Ok, il piacere è tutto mio. Davide. Davide, va bene. Cosa dovremmo fare adesso? Eh, boh, l'obiettivo della nostra vita è sopravvivere. Quindi ti consiglio di prendere quel manganello sopra il comodino. Ma, 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 ma è sporco di sangue. Vuoi vivere o morire là fuori? Eh, beh, lo prendo. Ok. Preso. Bene. Perfetto. Adesso ti porto a fare un giro sul mio gioiellino creato a mano. Ehm, è pensato anche per due persone, quindi seguimi. Pensato per due persone? Avevi previsto tutto? Sì, perché credevo che potevo trovare qualche superstita e farmelo amico. E quindi... Ecco il mio gioiellino. Ma, ma... Ti farò vedere tutta la tua. È un catorcio. Ma è un catorcio. Eh, l'ho fatto con dei bazzoni. Cos'è? Cos'è questo? Cos'è questo essere qua? Eh, lo scopriremo tra un bel po'. Ce ne sono molti in giro ancora di questi e... Meglio starne alla larga. Ecco perché ti ho dato un manganello. Cosa... Cosa sono? Mutati... Esseri mutati? Sì. Sono zombie. Sali nel posto secondario. Ti faccio fare un giro della città. Ci sono. Sali nel posto nautomoni. Ci sono. Ci sono i controlli. Ci sono i controlli. Ci sono i controlli. E amici. Ci sonici.